Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grandissimo piacere di presentare un saggio appena pubblicato da Salerno Editrice con quello che è considerato il più grande esperto del personaggio protagonista di questo saggio. Il titolo infatti è Matilde di Canossa, una donna protagonista del suo tempo, un mito intramontabile e l'autore è Paolo Golinelli al quale io lascio subito la parola per non rubargli tempo prezioso. Grazie Paolo intanto di aver accettato l'invito e a te la parola. Grazie Maurizio, sei sempre molto cortese. Devo dire che è un piacere anche essere su Italia Medievale che seguo molto e che è veramente da lustro anche alle nostre cose, quindi ti ringrazio di quest'opera che fai di promozione del Medioevo e del nostro lavoro. Io vorrei inserire questo PowerPoint che ho preparato, ora se lo ritrovo, perché il problema è sempre quello che si preparano le cose, poi diventa difficile ritrovarle, ma siamo fiduciosi. Che direi questo? Voglio dire iniziando questa conversazione è che questo libro è un libro anche per me importante, anche pesante, ecco un libro di quasi 500 pagine, è per me il libro di una vita, cioè praticamente una vita che io sono su questo personaggio. Tutto cominciò nel 1984 quando Vito Fumagalli mi coinvolse nel volume di commento alle edizioni facsimile del codice manoscritto 4922 della Biblioteca Vaticana, quello che riporta Davita Matildis di Donizzone, codice contemporaneo di Donizzone stesso, quindi molto interessante. Fu per me un'esperienza straordinaria perché trovarmi, mentre insegnavo, ero professore a scuola media, a tradurre questo testo, questo poema in quasi 3000 versi e tradurlo in versi, addirittura cercando di ripetere l'acrostico che c'è sia all'inizio che alla fine, fui per questo lodato da Regine Pernou, fu veramente un'esperienza straordinaria. Tradurre vuol dire entrare in un testo, vuol dire coglierne anche i significati, naturalmente le traduzioni sono anche legate al proprio tempo e anche alla propria cultura. Per esempio mi è stato rinfacciato che ho mantenuto l'idea di Matilde vice-regina che poi invece ho negato sempre, ma non sapevo distaccarmi da una tradizione che poi celebrava tutti gli anni in coronazione di Matilde a Quadrocastella. Lì ho avuto diciamo una debolezza, ma ero anche molto giovane. Il libro poi è stato ristampato, questo è il facsimile, il facsimile ancora in commercio a un prezzo notevole, io non ce l'ho nemmeno il manoscritto del facsimile, ma fu poi tradotto, fu poi riprodotto altre volte, sempre da HVUK, allora invece eravamo con Belser Ferlac di Zurigo, è diffuso in tutto il mondo, così in questa edizione in facsimile. In Germania mi hanno cambiato il nome, sono diventato Carlo Golinelli perché loro sono tedeschi e ricordiamocelo sempre, quindi sono perfetti. È stato ristampato tante volte e poi ripreso proprio con anche il testo latino fronte e con qualche piccolo aggiornamento da HVUK sempre nell'8, poi nel 16 ristampato chissà quante volte, non me lo dicono neanche. Ecco, da quella da quell'esperienza è nata la mia prima biografia di Matilde di Canossa, uscita nel 91 per volentà proprio di un editore, allora non è questa edizione, è questa mia edizione, che fu proprio anche un talent scout, no? Che era Raffaele Crovi per Camonia. Questo libro, Matilde di Canossa, nel cuore del Medioevo era nella prima edizione, poi ripreso da Giunti, poi ripreso da Morsia, tradotto in tedesco come vedete e con un cambiamento del titolo perché appunto loro devono parlare del Gangna Canossa, insomma il Canossa Gang per loro è fondamentale e allora dico questo libro ha avuto molto successo, io sono stato molto contento di questa impresa ed ero dispiaciuto perché in alcuni anni non era più in circolazione, poi invece venne appunto ripreso da Fiorenza Morsia e che ancora lo vende, ancora l'ha in catalogo perché appunto è un libro molto facile in un certo modo, ecco l'ho raccontata lì Matilde, però è un libro del 91, quindi 30 anni dopo ecco penso di, avevo il diritto anche forse di riprendere in mano questo discorso. Tra queste edizioni poi una riduzione ad Usum Delfini, breve storia di Matilde fatta sempre da Morsia nel 15 e poi tradotta in questa versione in francese a Orval nel Belgio appunto perché c'è tutto un aspetto di Matilde in Belgio che non è stata mai valorizzata, invece per fortuna ho avuto chi mi ha ascoltato e abbiamo potuto quindi anche pubblicare questo libro con un'aggiunta, con una modulazione specifica per quello che riguarda il Belgio e la fondazione dell'Abbai di Notre-Dame d'Orval dove probabilmente sepolta la sua piccola Beatrice, morta infante poche settimane, probabilmente dopo la sua nascita. Ecco poi ho continuato ancora nel 15, ho raccolto alcuni studi su Matilde, specialmente nel rapporto con la Chiesa, sempre per i H-Book in Lancella di San Pietro, ma questo è una raccolta di studi. Questo invece del libro di cui oggi parliamo, che ecco non voglio confondere le idee, parliamo del libro della Salerno, ecco questo è senza dubbio non una raccolta di studi ma una rielaborazione complessiva con un grande e spero aggiornamento ecco della bibliografia, degli studi che si sono fatti in questi 30 anni da me, da Cantarella, ma anche a livello straniero e con una parte nuovissima praticamente, almeno per il grande pubblico o per il pubblico degli studiosi, che è appunto quello del mito, cioè un terzo del volume dedicato al mito di Matilde che cosa ha significato. Lei, vita e mito è il titolo esatto, naturalmente nella copertina mettono come uno slogan, questa è nella tradizione della Salerno. Ha messo pochissime righe per quello che mi riguarda, e i miei amici mi hanno detto ma come non hanno detto tutto quello che hai fatto? E beh, insomma avrebbero dovuto scrivere parecchio. Andiamo avanti e per dirvi appunto che sul mito di Matilde io ho avuto occasione di cominciare diciamo nel 97 a cercare i riflessi di Matilde nella letteratura italiana. Da Dante a Pederiali, ecco sono molto contento di avere valorizzato questo mio amico Giuseppe Pederiali, scrittore milanese ma di origine della bassa modenese, di Finale Emilia in particolare, col quale abbiamo passato tante sere a presentare libri suoi e miei, lui i miei e io i suoi, perché era un contafole anche molto simpatico, non so se l'hai conosciuto. No, no, non ho avuto il piacere. Era milanese, cioè era ovviamente per fare lo scrittore doveva essere a Milano ed è famoso. Lui seguiva ogni volta diciamo le mode, ecco, ho fatto un periodo in cui seguiva molto il fantasy, no? Il tesoro del bigatto si inserisce in questa tradizione, un libro che ha avuto molto successo e che verrà portato sugli schermi come cartone animato, così mi diceva un giornalista. E poi ha avuto il periodo del giallo, no? Allora Camilla nella nebbia, tutte le storie di Camilla che uscivano per Garzanti o per Rizzore, non lo so. Quindi sempre dei tuori molto importanti. Il tiro del bigatto uscì con Rusconi, all'inizio poi fu ristampato da Mondadori, da Bruno Mondadori per le scuole. Ha avuto un grande successo. Torniamo a noi. Ecco, Matilde è presente nella lettura italiana e in questo libro che presento oggi viene ripreso anche, è molto ampliato, perché avevo bucato anche dei nomi non da poco che invece ora ho ritrovato approfondendo gli studi. e poi ho avuto occasione nel 2003 di fare un libro strenna, come si fa, no? Quelli pagati dalle banche quando ancora erano in grado di farlo e questo fu un libro che mi portò veramente a fare ricerche su come è stata immaginata e come è stata rappresentata Matilde nel corso dei secoli. Ho potuto anche in questo modo fare delle scoperte, perché sono stato a Londra e vi mostrerò appunto una scoperta di un sigillo che era sfuggito completamente agli editori dei documenti matildici e invece io l'ho trovato e questo sono molto orgoglioso, sempre in polemica con i tedeschi. Se dovessi andare avanti vi potrei fare tutta la cronologia di Matilde, ma non faremo questo, questo lo troverete nel libro seguendo appunto l'andamento cronologico, ma legato però molto anche alla vita privata, molto anche agli avvenimenti che avvenivano in Europa, le persone con le quali è stato in contatto, i santi, i mariti, i due mariti che ha avuto, eccetera. Vedete che nasce a Mantova probabilmente nel 1046 e terza di tre figli, che sono appunto di sua madre Beatrice di Lorena, che è cresciuta nella corte imperiale, adottata dalla moglie di Enrico III, Sofia, poi ha un... e suo padre Bonifacio di Canossa di questa dinastia, che già da quando lei nasce da un centinaio d'anni ha un certo rilievo tra la Toscana, tra l'Urchesia e la Pianura Padana. Bonifacio trasferisce la sua corte a Mantova, dove lui costruisce un castello, un palazzo ecco davanti al quale tiene un leone legato, quindi segno di potenza, no? E poi, diciamo, lei quindi, ecco, nasce quindi a Mantova. Ma nel 1052 suo padre viene ucciso da una freccia avvelenata durante una battaglia, durante una battuta di caccia. Era una situazione molto difficile. I mantovani, dove ci sono molti arimanni, uomini liberi, non accettano tanto il peso di questo dominatore su di loro, della famiglia. E infatti lei deve scappare, ma contemporaneamente muoiono con la madre, ovviamente le scappa con la madre, muoiono anche il fratello e la sorella. Quindi chi ha ucciso il lupo voleva uccidere anche il lupo a Chiotti e tutta la famiglia, no? Sono persone in fuga. È bellissimo seguire questo loro fuggire. Abbiamo un momento in cui addirittura la madre vi lascia un documento davanti al cimitero di Felonica. Felonica Pò è molto attaccata al Pò. C'è un'immagine anche nel libro di questo paese suggestivo proprio di fianco all'argine del Pò, diciamo che è nella zona tra Sermide e Ferrara, quindi verso appunto nella parte diciamo più orientale dell'attuale provincia di Mantova. La provincia di Mantova ha delle propaggine che arrivano anche verso il Ferrarese. E questo documento è stranissimo perché è rogato davanti al cimitero, quasi che loro stessero scappando e che sia morto il fratello o la sorella di Matilde. Ecco, questi aspetti diciamo umani io li ho seguiti, li ho seguiti anche cercando di capire nella donna, nella ragazza, nella giovane Matilde che cosa poteva capitare nel suo animo, insomma, no? Lei, la madre, si risposa, ha bisogno di un mondo aldo, di un protettore e Matilde viene promessa in sposa in quel momento con il figlio del marito, del nuovo marito di Beatrice che si chiama Goffredo il Barbuto, il quale ha un figlio che si chiama Goffredo il Gobbo. E quando Goffredo il Barbuto sta per morire a Verdun fa arrivare la sua famiglia e lì probabilmente vengono celebrate le nozze tra Matilde e Goffredo il Gobbo. La madre ritorna in Italia, Matilde resta in Lorena e lì ha una bambina. Anche questa è una mia scoperta. Prima delle mie ricerche ci pensava che avesse avuto un figlio perché c'era un documento che riguardava il marito e l'imperatore diceva se tu ho il tuo figlio ereditario farete questo, ma questa è una formula, non che volesse dire che lui aveva avuto un figlio, almeno in modo così specifico. Invece ebbe una figlia, per questo lo troviamo in un documento dell'Abbazia di Frassinoro, la fondazione si dice che viene fondato per Beatrice, madre di Matilde, il 29 agosto del 1071, fonda l'Abbazia di Frassinoro per l'anima della mia nipote Beatrice. E subito si era pensato che fosse una nipote di zia. Io ho fatto i miei confronti, ho potuto verificare invece che era nipote di figlia, quindi di nonna, nipote di nonna. Ma non solo, ma un studioso locale, però, che ha avuto la fortuna di trovare un documento in cui c'è un elenco delle persone per le quali si prega all'Abbazia di Frassinoro e si dice al 29 di gennaio Beatrice, figlia di Matilde. Per cui abbiamo potuto così avere la prova che, in effetti, ha avuto questa bambina che è morta, ma è morta quando lei era ad Orval, quando era appunto... Orval è vicino a Traverdain e Bouillon. Bouillon è Buglione, luogo appunto di Goffredo di Buglione. C'è un bellissimo castello fondato proprio da Goffredo, il barbuto prima di Goffredo e Bouillon. Ecco, Matilde allora probabilmente, sicuramente fonda l'Abbazia di Orval e questo ha consentito anche di portare Matilde in Lorena, di vedere lì. E vi devo dire che ho avuto la soddisfazione nella vita quando uno può pensare a quello che ha fatto, ma sono riuscito, assieme a un collega, un appassionato, un medico del paese, del comune, dove c'è l'Abbazia di Orval, che è Florenville, di portare a un patto di amicizia tra Canossa e questo comune, che si chiama appunto Florenville. È stato celebrato nel 17 e vedere nel comune, davanti al municipio di Florenville la bandiera italiana e la bandiera belga, insomma, è stata una soddisfazione. Ci fa capire anche che quello che fai può avere anche dei risvolti, quest'idea di pace almeno. Allora non c'era neanche, per fortuna, il Covid. Bene, io appunto ho avuto poi l'occasione di trovare un sigillo cereo che era sfuggito a tutti gli studiosi che ho trovato nella British Library di Londra nel 2003 quando facevo quel libro di cui vi ho mostrato prima l'immagine. Ed è lei in piedi e di fianco c'è scritto Usual Gottfriedi, Matilde, moglie di Goffredo. Ed è sicuro appunto che è lei, non ci sono altre moglie di Goffredo. In quel momento c'era un sigillo cereo pendente probabilmente del documento che riportava la fondazione dell'Abbazia di Oromale. Questo posso anche interrompere la condivisione e parlare un po', come dici tu. Ecco, questo devo dire che è stato un bel ritrovamento sempre perché io cercavo le immagini di Matilde e allora quando vado in una biblioteca vado a cercare tutto. Tra l'altro la sala di consultazione di manoscritti, la parte più in alto della British Library che conoscevo ovviamente anche per altre esperienze, altre ricerche, ero stato anche nel vecchio British Library quello che era sotto questa grande cupola e dove c'era la sala di consultazione sotto questa grande cupola che c'è ancora, ecco, per ora, è la nuova British Library vicino alla stazione adesso non mi viene in questo momento ma dicevo lì ci sono anche tutti gli elenchi delle entrate, di che cosa entrava nella biblioteca, quindi di tutte le donazioni divisi per anni. Infatti i manoscritti della British Library sono nominati tutti con ADD, Additional, Additional One, 1300, eccetera, no? E allora queste addizioni sono pubblicate e vedi che anno è stato donato e da dove aveva trovato queste cose e il donatore e lì intorno al 1858 quel sigillo è arrivato da un donatore che operava nel centro Europa ecco, nelle parti appunto di Treviri appunto delle zone dove poteva benissimo avere raccolto questo sigillo da Orvale o da qualche d'uno che l'aveva trafugato insomma in qualche modo. Questa è un po' una delle tante storie. Il libro porta con sé con una serie anche di e vediamo un po' di altre piccole o grandi scoperte. Vediamo un po'. Ecco, questa è l'abbazia di Orval come risulta ora. Vedete c'è una parte nuova e c'è una parte antica che è la resta dell'abbazia cistercense e in mezzo a questi c'è la Fontaine Mathilde e la Fontaine Mathilde perché c'è tutta una leggenda in quel luogo che si racconta che Mathilde appena sposato avrebbe perso l'anello nella sorgente di Orval e una trota la truit d'Orval gliel'avrebbe riportato e lei avrebbe detto ecco finalmente questa è la valle dell'oro Orval e questa è una leggenda naturalmente che si è diffusa la troviamo però già nel 600 forse anche nel 500 però è rimasta l'idea di questa sorgente sorgente che fornisce un'acqua molto pura con la quale fanno ovviamente in Belgio fanno la birra di Orval per cui c'è la birra di Orval che i trappisti perché ora l'abbazia nuova è appunto fattenuta dai trappisti pochi ecco magari ce n'è uno solo che si dedica a guidare la birreria e loro appunto vedete qua il simbolo della libreria della birreria con la trota che porta l'anello in bocca ecco questo per dire che cosa è rimasto di Mathilde io vi dico sono stato a Orval la prima volta nel 2008 e non sapevano niente di Mathilde c'era però un bibliotecario che era di origine italiana al quale io ho lasciato il mio libro quello che avete visto che ha avuto tanto successo e allora da questo è nata una corrispondenza poi c'è stato questo dottore che si è collegato con me c'è stato un convegno e alla fine appunto abbiamo avuto queste grandi soddisfazioni ecco potremmo continuare ancora con la sua biografia ma non vi voglio annoiare vi voglio però passare progressivamente a toccare rapidamente anche un po' quello che riguarda il metodo di Mathilde ecco l'incontro di Canossa vedete qua due opposte modi di vedere per i cattolici è il perdono per gli italiani è il perdono è il simbolo di un perdono probabilmente questo è il significato più profondo perché quello è un atto penitenziale la penitenza nel Medioevo si faceva in privato per peccati privati e in pubblico per peccati pubblici invece dal punto di vista dei tedeschi e poi dei protestanti quello diventa il simbolo di un'omigliazione un'omigliazione di un imperatore di fronte costretto dice uno scrittore a baciare l'alluce gottoso del Papa ecco questo e questa è la presentazione che vedete sulla sinistra sulla destra non so da che parte vedete in modo in bianco e nero è presa da un pamphlet polemico molto bello e molto interessante che potete trovare su internet e si chiama Passional Christi und Antichristi in cui da una parte c'è Cristo e dall'altra parte c'è l'Antichristo e l'Antichristo è il Papa Cristo che lava i piedi agli Apostoli e l'Antichristo che si fa baciare i piedi dall'imperatore è proprio l'opposto questo è veramente un simbolo fu scritto probabilmente da Melantone o da Lutero stesso ma probabilmente Melantone ed è rilustrato da Lucas Kranach il vecchio ecco Matilde dopo l'ingresso diciamo dopo la pace di Canossa che durò molto poco perché dopo 15 giorni l'imperatore li prese a fare guerra al Papa l'imperatore aveva bisogno che venisse perdonata e venisse riammesso nella comunione santorum nella comunione dei Santi che poi era stato scomunicato ecco la scomunica allora lui va a fare accetta questa umiliazione accetta questa umiliazione sapendo però che il risultato sarebbe stato il perdono perché ogni peccatore sa che di fronte quando si confessa deve arrivare il perdono ecco magari c'è un po' di penitenza da fare o c'è da andare a un'autorità superiore per mercati gravi in questo caso è andato dal Papa quindi più in alto di quello c'è solo Dio a quel punto era sicuro che avrebbe avuto il perdono ed era stato anche organizzato un po' da Ugo di Cluny vedete e il Matilde qua lo vedete nel manoscritto della biblioteca vaticana ecco Matilde a quel punto lì quando Enrico IV si ribella di nuovo al Papa ha bisogno deve scegliere e sceglie una cosa che per me è simbolo ecco cioè sceglie l'ideale sceglie di stare col Papa anziché con l'imperatore di cui era vassalla e quindi il suo potere le derivava dall'imperatore principalmente non dal Papa e lei invece sceglie l'ideale e questo secondo me è un tratto tipicamente femminile ecco se vedete i grandi scandali anche a Milano sono saltati fuori da delle donne da delle donne che buttavano dalla finestra i soldi che erano stati rubati dal marito che poi era anche per dire come le donne possono essere anche in certi casi molto più rigide e diventa oggetto di diffamazione dai suoi avversari ovviamente ecco Gregorio VII che preferisce il consiglio di una donna si arriva addirittura a parlare di lei come osvulve questo qua si fa guidare da una traducetelo voi io l'ho tradotta però non ho tema di dire bocca di fica e così l'han chiamato è inutile che giriamo intorno alle parole ecco questa rappresentazione questo è Zucca nella sala regia del Vaticano dall'altra parte invece come rappresentata dai tedeschi è segnato di dover si umiliare e là in alto e là in alto vedete il papà e anche la contessa Mattilde con il cappello a punta quindi si distingue così e probabilmente anche Uddi ecco ci sono molte novità per quanto riguarda il mito di Mattilde le novità nell'iconografia dove abbiamo conosciuto delle immagini dell'arte perché per capire ci vogliono anche i referenti questo che è rappresentato è di Giulio Romano è di Giulio Romano che si è stato indicato come preparatorio della donazione di Costantino in effetti invece è il perdono di Canossa non c'è niente in mezzo vedete la figura di Mattilde di Canossa la figura il sacerdote il monaco con la croce a stile Ugo di Cluny e il papa solo che è stato tutto rappresentato in una scena rinascimentale tipica del periodo di Giulio Romano ecco la novità forse più eclatante è quello che mi è capitato di arrivare a scoprire riguardante Michelangelo Bonarroti questa che vedete è l'immagine della vita attiva nel complesso della tomba di Giulio II a Roma in San Pietro in Vincoli ecco leggendo il Condivi che sembra addirittura che lui l'abbia scritto su Dettatura di Michelangelo quindi è proprio il suo primo biogoro dice Michelangelo Bonarroti pittore scultore singolare e bell'origine sua da Conte di Canossa cioè Michelangelo vantava si vantava di essere discendente dei Conti di Canossa c'è anche una corrispondenza con un Conte di Canossa che teneva il castello in quel momento e nel fare la figura della vita attiva lui si richiama a Lia come viene rappresentata da Dante nella Divina Commedia ecco ed è un modo anche la costruzione di quel monumento funebre a Giulio II durò 40 anni quindi fu molto laboriosa come in ciò che Giulio era ancora vivo poi finì intorno al 42 43 1542 quindi ebbe anche un disegno molto diverso fu costretto e in un momento fu terminato in un momento in cui il Papa non voleva più avere a che fare con Michelangelo trattava quasi come fosse un suo scalpellino qualsiasi insomma Michelangelo invece nel volere ricordare al Papa che lui è discendente da Mattia di Canossa gli fa capire che se tu sei così potente è perché Matilde ha fatto la donazione e quindi tu devi a me la donazione perché io sono discendente di Matilde veramente seguire queste cose va molto è molto interessante ecco ho ancora un'espressione qua vedete quando lui proprio il condivi racconta come ha fatto e che cosa ha voluto rappresentare dalla destra ha voluto rappresentare nella tomba di Giulio II il Mosè in mezzo la vita attiva e la vita contemplativa ai lati e l'altra che rappresenta la vita contemplativa una donna di statura più che naturale ma di bellezza dall'altro canto cioè dalla sinistra del Mosè è la vita attiva con uno specchio nella destra mano nel quale attentamente si contempla significando che questo qua non riesco a vedere dovevano essere fatti naturalmente nella sinistra con una ghirlanda di fiori nel che Michelangelo ha seguito Dante dal quale è sempre stato studiore che nel suo purgatorio finge aver trovato la contessa Matilde quale gli piglia per la vita attiva in un prato di fiori e vedete che c'è anche dei riferimenti specifici ecco interrompiamo un attimo questo insieme di autori che vogliono rifarsi a lei come anche il richiamo a Dante ecco ci riporta veramente alla figura di Matilde che percorre tutto il secondo millennio Dante la riconosce nella Matilde è una discussione l'ho fatta altre volte anche in un libro specifico che abbiamo pubblicato con Patron l'anno scorso insomma è inutile se i commentatori dicono questa è la contessa Matilde è inutile stare a girare intorno alle cose il figlio di Dante dice questo quindi ci sono proprio dei modi poi si discute che lui l'abbia sublimato questa figura che l'abbia fatto una figura poetica ok non c'è problema insomma però all'origine nel suo intentento c'era questo personaggio così poi ne parla Petrarca ne parlano molti autori del rinascimento e poi la sua figura attraversa tutta la storia e anche le sue immagini io ho trovato ora non posso mostrarvelo ma una miniatura di Jean Picœur siamo al 1503 questa miniatura si trova in un volume sulle donne celebre le donne celebre le donne celebri del 500 e dove c'è Matilde c'è un incontro di Canossa una miniatura da quasi tutta pagina che è veramente molto bella e che ho riprodotto anche nel libro a colori insomma e così ho seguito anche tante altre altre immagini mi piacerebbe mostrarvi adesso se riesco a farvelo un po' come è strutturato questo questo libro se si può vedere si vede Maurizio? sì allora tanto per andare vedete ogni capitolo si apre con un'immagine che non è esornativa ma è utile per capire il capitolo stesso ad un certo punto vi troverete un'immagine stranissima che è un gabinetto medievale perché ho dovuto mettere un gabinetto medievale che è quindi non fuori vediamo se riesco a trovarlo questo è Orval questo è Sigillo queste sono altre eccolo vediamo se si allarga lo vedete più largo ecco gabinetto medievale fuori dal castello di legno tra l'altro perché un assassino come si può ammazzare uno al gabinetto questa è una domanda che voglio lasciarvi un po' scherzando perché è una c'è anche la risposta ma come si fa nei gialli lascio a voi andare andare alla ricerca no devo dire che mi sono anche divertito è un libro che mi ha costato molto l'ho costruito durante la pandemia quando ero obbligato a restare a restare a Verona e quindi non poter girare quindi lì ho una casa un po' più stretta di questa che è in campagna però appunto è stata una grande soddisfazione anche una grande fatica però come vi dicevo fin dall'inizio è il libro di una vita ecco ormai sono in pensione ormai però non che io voglia smettere di occuparmi sicuramente non farò mai più un libro su Mattile di Canoz questo è un libro commissionato mi hanno chiesto mi hanno detto qua abbiamo la serie dei profili ci vuole Matilde e io non ho voluto lasciarla fare un'altra ecco questo con questo vi lascio sperando appunto mostrando semmai alcune altre pagine come se lo sfogliassimo insieme questo libro questa è un'immagine del Perugino anche questa da me scoperta nella sala dell'incendio ci sono queste vele ci sono otto vele che stanno al di sopra e alla prossimità di una figura di 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 Mattile di Canoz fatta da Giulio Romano che è sparita perché hanno aperto poi la porta c'è questa immagine del Perugino ed è l'unica donna e gli altri sono sette imperatori e questo non è un caso perché la stessa cosa di un'unica donna in mezzo a tanti ritratti era nell'escorial di di Madrid anche qua ho trovato i riferimenti anche quello purtroppo quello è andato purtroppo bruciato per dire anche la dimensione internazionale europea di questo personaggio che non è diventata una domanda d'arco qua vedete ancora il il Kranach e e tante altre ecco vogliamo un po' andare verso la fine fino all'immagine moderna contemporanea fatta da un è un pittore surrealista ecco Lanfranco Frigeri che è morto un paio di anni fa ma che ha letto il mio libro e mi è piaciuto quello precedente dico si è innamorato di Mastin ed è rappresentato così con i suoi simboli il simbolo del potere la melagrana che unisce in sé tutte le virtù e poi questa quasi questa corazza che la difende la proteggi in un mondo che mi sconvolge in pieno sconvolgimento ecco non ho più parole grazie figurati grazie a te grazie a te credo che non ci sia niente di meglio da fare che andare a comprare il libro perché così riuscirete a rendervi conto di quante cose è riuscito a mettere insieme Paolo Gorinelli che a Matilde credo abbia dedicato una vita di studi come come nessun altro quindi il titolo è Matilde di Canossa il sottotitolo una donna protagonista del suo tempo un mito intramontabile l'editrice è Salerno pubblicato da poco 470 pagine da leggere tutto ed un fiato per scoprire un personaggio che tutti conoscono ma nessuno probabilmente è così bene è così in maniera così approfondita e su quale frato sono anche state scritte dette anche molte stupidaggini anche molte stupidaggini alle quali occorre porre il rimedio quindi Paolo io ti ringrazio tantissimo sono io che ringrazio te Maurizio sei veramente molto caro spero di vederti presto pandemia permettento e magari fare qualcos'altro di bello insieme grazie ancora ciao grazie grazie